Siracusa set per produzione cinematografica Dopo la pausa estiva ripartono le richieste di collaborazione da parte di produzione cinematografica e audiovisiva che scelgono il territorio del museo. Questo mese Siracusa sarà set per le riprese di un cortometraggio realizzato dall'associazione culturale SAM dal titolo Fili di Memorie e per la realizzazione di episodi di programmi televisivi quali Via Italia che andrà in onda sul canale francese Voyage sarà realizzato dalla Miss Luna Films Mare TV per la TV pubblica tedesca NDR realizzato dalla Non Fiction Planet Film Television GmbH L'Italia Morsi che andrà in onda in Italia sul canale Food Network realizzato dalla Zero Stories e Storie delle nostre città per Rai Storia realizzato dalla Ballan di Arts L'impegno del Film Commission, dichiarato dall'associazione della cultura Fabio Granata è sempre rivolto a proporre le location più interessanti e suggestive per promuovere e valorizzare l'immagine di Siracusa nelle proiezioni italiane ed estere, tese a rendere sempre più profigo la collaborazione agevolando le richieste e la permanenza delle produzioni in città L'attività già da tempo rodata si avvale come sempre del supporto degli uffici comunali competenti nonché della partecipazione di altre realtà presenti sul territorio seracusano che lavorano attivamente all'incremento della divulgazione culturale del patrimonio grazie